Che cosa significa per lei oggi avere cura? Svegliarsi dagli incubi dell'onnipotenza e dell'impotenza, con lo spirito di chissà che vivere è continuare a risuscitare. Quanto è importante aver cura della dimensione inconscia, quella che si esprime attraverso i simboli, e come è possibile farlo? Il virus stesso fa parte fino ad oggi di ciò di cui noi siamo inconsapevoli, non sappiamo cos'è, inconsapevolezza che aggrava la sensazione di poter essere aggrediti da qualcosa di incontrollabile. Nella situazione in cui siamo, fuggire e ripararci dal virus è difficile, tutti siamo più o meno esposti, non abbiamo armi per contrattaccare, non abbiamo il vaccino, come qualsiasi altro animale che non può fuggire e non può attaccare, siamo presi dall'angoscia che può diventare panico. Ma come viviamo questo disagio? Il disagio si insinua dappertutto nelle diverse stratificazioni della psiche, nelle sensazioni, nelle emozioni, nelle percezioni, nelle fantasticherie, nei pensieri improvvisi, nei sogni. E queste cose influenzano, queste parti nostre influenzano anche le nostre riflessioni, l'organizzazione del pensiero, le risposte che vorrebbero essere responsabili. E per ciascuno questo avviene in modi diversi individualmente. Aver cura solo delle parti consapevoli e responsabili è come aver cura di una gamba sola quando si vuole correre. Quando affrontiamo allora qualcosa che non conosciamo, che è nuovo e incontrollabile, inevitabilmente cerchiamo qualcosa di simile che abbiamo già incontrato. Questi giorni vedo nelle analisi via Skype riaffiorare antiche paure, vissuti infantili e con grandi e inevitabili ambivalenze. Rivivere uno spavento, spaventarsi ancora di più, ma anche rassicurarsi per averlo ormai superato. E sarebbe utile allora annotarsi, registrare le emozioni, i sogni, dialogare con essi come se fossero interlocutori carne ed ossa, fermarsi sulle fantasie, sui pensieri più o meno organizzati. Insomma, cercare di prendere coscienza di ciò che accade anche al di là della nostra coscienza vigile, per non aggravare, per non ingigantire le nostre angosce assommandole a quelle del passato, ma anche per non fuggire in consolazioni fasulle che poi raddoppierebbero la nostra delusione. Il presente esige di fronteggiare qualcosa di ancora ignoto con tutta la consapevolezza e la calma di cui possiamo renderci capaci.